Oggi non è discusso, oggi si dice meno tasse e basta. È vero che in certi casi ha limiti molto elevati e così via. Quindi come tendenza generale, certo, la diminuzione per tutto quello che si può delle imposte sul lavoro va nella direzione giusta ed è molto importante nel quadro che abbiamo visto adesso. Però la forza che sta espellendo lavoro dappertutto è una forza massacrante e la dobbiamo tenere presente. Mi sono chiesto molte volte cosa può fare il sindacato.